Ciao spregiosi, io sono M e sono di nuovo qui per una nuova puntata di MTE e oggi dirò cose brutte e cattive. Quali sono i problemi dell'Italia? Direi che sono calderoli, i problemi dell'Italia sono un uomo leghista, oramai in età avanzata, che dichiara il primo ministro di colore italiano è un orango. Questi sono i problemi dell'Italia, fatto di per sé gravissimo in un paese civile, perché una carica dello Stato non si può minimamente permettere di offendere una carica di governo in questo modo e passarla liscia soprattutto, cosa che lui vuole fare, perché io cosa mai ho detto? Non è questo il problema dell'Italia, il problema dell'Italia non è questa dichiarazione di un personaggio, lasciamo perdere quello che potrebbe essere, ok? I problemi dell'Italia sono ben altri, sono una persona come Bondi che dichiara, ma no, i tumori a Taranto non sono dipesi dall'inquinamento dell'ilva, ma da un uso eccessivo di tabacco e alcol. Questi sono i problemi dell'Italia. Il problema dell'Italia non è il fatto che sia stata rimpatriata in Kazakistan la moglie e la figlia di un dissidente kazacco. Non è questo il problema dell'Italia, perché l'Italia in questa mossa ci ha fatto una figura internazionale fantastica, che quella di Calderola in confronto è niente. Non sono i problemi dell'Italia, no, no, no. I problemi dell'Italia non sono la disoccupazione oramai alle stelle, tanto più che anche gli immigrati sono disoccupati. Sì, avete capito bene, questi non sono i problemi dell'Italia. Non sono i problemi che bisogna risolvere, i problemi dell'Italia sono ben altri. Sono sulla stazione spaziale probabilmente i problemi dell'Italia, sono andati così in alto che oramai non li vediamo neanche più, i problemi dell'Italia. E anche per questa puntata di MTE abbiamo finito, io sono M, mettete un mi piace, mi raccomando, e commentate dicendo la vostra come vi pare e piace. Alla prossima, ciao ciao!